il secondo per questa bellissima rubrica che sta ottenendo tantissimi consensi, ci stiamo già preparando per i prossimi appuntamenti, quindi non mancate perché sono veramente ricchi, poi dopo ve ne parlerò al termine dell'intervista. Stasera abbiamo un amico e direi anche uno chef di competenza, in quanto sono tantissimi anni che Stai Furnelli, come i nostri amici chef che intervisteremo, sono lontano dai riflettori, lontano dai mass media, ma sono molto molto vicini al cliente, molto vicini alla cucina, ai fornelli perché è la loro vita e questo lavoro lo fanno con passione. Sto parlando di Claudio Pucci che vedo che è già collegato, quindi vi rinnovo l'invito come sempre, visto che abbiamo questi personaggi del mondo della gastronomia, di approfittare per fare domande o curiosità o chiedere magari qualche delucidazione su qualche cosa che, qualche difficoltà che incontrate cucina, chiedere qualche segreto, cioè sono a nostra disposizione, quindi io direi di approfittare ogni volta che ci troviamo a confronto con questi personaggi del mondo della gastronomia, della ristorazione. Quindi saluto pubblico. Ciao, benvenuto, sono contento che hai accettato il nostro invito. È un momento che stiamo ripartendo tutti quanti, so che poi ci racconterai insomma come si svolge il tuo lavoro, non ti dico adesso in questi giorni, ma quello che sarà, quello che comunque vivi da tantissimi anni in cucina. E io, per non perdere tempo, perché so che hai da fare, partirei subito con la prima domanda, che è questa. Come nasce lo chef Claudio Pucci? Io ti conosco da tanto tempo, ma probabilmente i nostri spettatori invece ti conoscono molto di meno di me. Eh, ho iniziato tanti anni fa, ho iniziato a fare la scuola alberghiera a Torino, era il 73, figurati, sono passati 40 anni. Qualche anno fa, qualche anno fa. Poi facendo la scuola alberghiera, ogni anno finita la scuola andavo a fare delle stagioni estive nei mari e così ho cominciato a fare questo mestiere, finché nell'86 mi sono stabilito qui proprio definitivamente all'isola d'Elba, ho trovato un albergo, mi piaceva e sono rimasto qui insomma ormai dall'86. mi ritengo più elbano che torinese, insomma, il bano d'adozione. Il bano d'adozione, bellissima questa cosa qui. Il bano d'adozione, perché ormai insomma ho passato diciamo 40 anni della mia vita, anzi forse più qui all'isola d'Elba. Ho iniziato nel 76 facendo le stagioni, ma dall'86 fisso. E questa insomma, questa isola mi ha dato molto insomma. Beh, è un posto bellissimo, meraviglioso. È un posto bello, magnifico, spiagge belle, insomma. Anzi. E poi è tranquillo, quello è la cosa. Non è poco, invitiamo anzi a venire. Invitiamo la gente a venire proprio. Sia per la ristorazione che è meravigliosa, poi ce ne parlerai, sia per la ristorazione che è meravigliosa che per il luogo che è bellissimo, insomma. Quindi sicuramente è un posto da visitare, assolutamente. Ecco, tu hai detto 40 anni, oltre anzi 40 anni in cucina, no? Sì, sì. Ho iniziato piano piano, finché poi un giorno qualcuno si è fidato di me, mi ha messo in mano una cucina. Sto parlando dell'89, da allora insomma sono in cucina a dirigere cucine d'hotel. Non ho girato tanti hotel, tre o quattro hotel qui all'isola d'Elba, per diversi anni. non è che ogni anno cambia, insomma, così. E niente, il lavoro dello chef è fare il menu, stare attenti alle spese, fare dei buoni acquisti, dirigere il personale, insomma, i vari reparti, i chef di partita, e cercare di accontentare il cliente nel miglior modo possibile. Tu mi dicevi che hai una gestione un po' particolare, organizzata molto bene, no? Sì, fortunatamente, essendo anche molto appassionato di informatica, mi sono messo a fare un programmino da solo sul computer per tenermi la contabilità in cucina. E un giorno ho trovato un programma su internet, l'ho comprato, questo mio amico Terrile di cui ti avevo parlato. Sì. E niente, diciamo che siamo diventati amici perché c'aveva un po' di magagni a questo programma e ogni volta che c'era una magagna glielo comunicavo. e lui da lì è nata un'amicizia e ora sono il suo beta tester, insomma. Questo programma mi ha aiutato molto. Magagni in c'è un anno o più però, adesso. Adesso funziona bene, adesso funziona bene però. Sì, funziona bene, certo. Ma qui stiamo parlando già di più di vent'anni fa, eh? Certo, beh, poi l'informatica si è sviluppata tantissimo, no? In vent'anni è un periodo breve ma è un'enormità per i progressi che sono stati fatti in magica, assolutamente. Facendo carichi e scarichi hai il controllo della cucina, hai il controllo dei costi che è molto importante. Certo. Perché facendo i carichi e scarichi, innanzitutto facendo i carichi e gli scarichi hai a mente i prezzi. Se viene un rappresentante e ti propone un prodotto a un prezzo, tu sai già quanto l'avevi pagato da un altro, se ti puoi convenire o no, insomma, diciamo che ti aiuta moltissimo. Diciamo che il segreto di una buona cucina, di un bravo chef, non è solamente di stare ai fornelli e creare degli ottimi piatti, ma è anche nella gestione del materiale, nelle spese. Soprattutto nella gestione, certo. È importantissimo. Poi chiaramente, insomma, anche le mani in cucina devono essere buone, altrimenti... Tu in cucina, tu sei il capo praticamente, quindi hai un buon rapporto... In cucina sono lo chef, sì, sono lo chef e faccio anche il food and beverage, sono responsabile di tutti gli acquisti che vengono... Certo, quindi un po' a tutto tondo, insomma, quello che... Sì, 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 ottimo, ottimo, sì. E poi mi piace stare dietro le qui, cioè, mi piace stare sui fornelli, insomma, sono sempre in cucina. Certo. Diciamo che i carichi e gli scarichi li faccio a tempo perso, mi piace stare in prima linea, avere la mano dove c'è bisogno, non sto seduto al computer. Eh, ma un motivo ci sta perché stai da tantissimo tempo, insomma, anche all'isola del Be non ti sei più spostato, ti trovi bene, ma soprattutto ti apprezzano, quindi penso che questo sia più che valido come motivo, assolutamente. Senti, è una curiosità mia, ma se non avessi fatto il cuoco, cosa avresti voluto fare? Il fotografo. Il fotografo? Il fotografo, sì, è sempre stato il mio hobby. Amo i colori, amo l'estetica, la creatività e anche grazie a questo... e all'informatica ho creato il mio sito... Ecco, lo vuoi dire? Com'è il sito tuo? Il mio sito è il mio nome e cognome, claudiopucci.com. Ok, quindi potremmo trovare anche le tue ricette, insomma, le tue creazioni? Sì, sì. Ok. Le ricette... Ho fatto tutto da solo, sia il sito che le foto... Che... Che le ricette, insomma. Ho fatto così un po' a tempo perso, ci ho messo un po' di tempo, ora l'ho un po' trascurato perché mi ha richiesto tantissimo e adesso mi ha un po' allentato. Però, insomma, un po' di ricette ci sono, un po' di foto ci sono, insomma, mi ha dato soddisfazione. Invitiamo ad andare i nostri spettatori, insomma, anche a mettere in pratica qualche ricetta, tra cui quella che ci regali stasera, poi ne parleremo. Tu hai detto che sono tanti anni che stai all'Isola d'Elba, no? Ma secondo te, in cosa si differenzia la cucina dell'Isola d'Elba da quella del resto d'Italia, dal resto del paese? In che cosa consiste, principalmente? Ma diciamo che qui, a tempi addietro, c'era una cucina povera, perché erano tutti i contadini, c'era il papa al pomodoro, la sburrita, il polpo, l'esso, le minestre di fagioli. Però poi diciamo che con l'avvento del turismo un po' è cambiato, perché sono venute anche tante altre persone che sono venute qui come me e poi si sono stabilite, insomma, la cucina naturalmente poi, lo sai, si divulga e cambia, insomma, no? Con l'evoluzione. E' evoluta. E perciò diciamo che c'è una cucina nazionale, una cucina un po' regionale, tipica. Quindi non è solamente, perché uno pensa all'Isola d'Elba, pensa a pesce, più che altro. Sì, sì, no, beh, chiaramente molto a base di pesce, soprattutto l'estate, insomma. Certo. Quando si pesca. Quindi la stagione, per esempio, da quando inizia? Perché d'inverno all'Isola d'Elba, l'inverno che cosa troviamo? L'inverno troviamo gli zeri, i calamari. Gli zeri, la minestra di zeri è spettacolare. Forse, penso che sia la migliore minestra che ci sia in circolazione. Ok. Secondo me, molto buona. Però per... E' un piatto tipico di qua. Ok. Un piatto tipico. Poi ci sono i calamari. Minestra degli zeri, si chiama? Gli zeri, sono dei pescettini piccolini, sono marrone scuro. Si pescano solo d'inverno. Ah, ecco. E sono buonissimi. Sia fritti, o in carpione, o la minestra degli zeri, secondo me è ancora più buona. Ottimo. Però se uno è un amante dei pescettini, è molto semplice. Cioè, io conosco persone che sono amanti della ciccia più che del pesce. Se voglio la ciccia la trovo, insomma, no? Perché la ciccia... Certo, si trova tutto. Si trova tutto quanto. Non è che sono per forza il pesce, insomma. No, no. Gli diamo tutto quanto. Certo, si trova tutto qui, qui. Senti, siamo ripartiti proprio da oggi, ma la ristorazione all'Isola d'Elba, come si è organizzata? Come affronterà la prossima estate? Ah, qui sarà, insomma, da vedere, perché anche noi quest'anno in hotel apriremo sicuramente il ritardo, perché le date saranno... Ricordiamo dov'è che lavori tu, ricordiamo che non abbiamo... La perla del golfo. La perla del golfo, ok. Approprio. Abbiamo perso sicuramente un tre mesi di stagione, perché inizieremo a fine giugno, a primi di luglio, e con un personale ridotto, perché non sappiamo i numeri che potremo fare, insomma, diciamo che siamo un po' al buio per il momento. Si spera che arrivi il turismo e che magari possiamo assumere un po' di personale in più, anche perché purtroppo tenere la gente a casa in questo momento è forse una delle cose peggiori che possa succedere. Assolutamente. Il turismo principalmente da chi è fondato? Sono stranieri più che altro o italiani? Diciamo che durante l'estate, luglio-agosto, italiani, famiglie. Noi lavoriamo molto con le famiglie, ci sono i bambini, insomma. In bassa stagione invece ci sono i tedeschi, gli svizzeri, gli austriaci e gruppi, gruppi di francesi, di italiani, insomma dipende da, proprio nelle basse stagioni di ottobre e di aprile si fanno dei gruppi. Quindi apertura e chiusura stagione in realtà poi? Come? Apertura e chiusura stagione in pratica? L'apertura e chiusura stagione sì, sono gruppi, esatto. Con qualche privato, ma ormai i privati ne sono pochi, diciamo. Ok, ok, ok. Ascolta, vista la tua esperienza mi permetto di chiederti una cosa che magari può essere interessante ai nostri spettatori. Qual è il segreto di cucina per preparare un buon piatto gastronomico? Un segreto? Sì, un qualche cosa che magari, un qualche cosa che tu utilizzi in cucina o comunque un qualche cosa che, un consiglio insomma che puoi dare a chi è che vuole realizzare un piatto che faccia effetto. Guarda, ti racconto questa minestra di zeri perché hai il cielo nel cuore. Ok, va bene. Praticamente si prendono gli zeri e si puliscono. Poi facciamo un piccolo soffritto di cipolla, sedona e carota con un po' di pomodoro e qualche foglia di prezzemolo e peperoncino. Facciamo rosolare molto bene. Aggiungiamo gli zeri puliti e li facciamo rosolare un pochettino. Bagniamo col vino bianco e poi mettiamo dell'acqua e sale. Facciamo bollire una mezz'oretta. Bene. Una volta che è bollito, che diciamo che la minestra è pronta, si passa a setaccio molto fine, il tutto, i pesci, e viene questa crema densa brodosa. A questo punto si mette dentro la pastina e si fa come una minestrina di brodo, diciamo. Ha un sapore, guarda che... Ah, ci crede che è concentrato poi il sapore e anche i profumi. È incredibile, veramente. A me me l'ha insegnata una vecchietta di 90 anni, quando abitavo, i primi anni che ero venuto qui a abitare la risola d'Elba, che ora non c'è più, insomma, sono passati già tanti anni. Eh beh, quindi la tradizione proprio. E ce l'ho nel cuore, questa è una cosa che, questa minestrina ce l'ho proprio nel cuore. Dobbiamo venire ad assaggiarla, assolutamente. D'inverno, eh. D'inverno, d'inverno. Beh, meglio, eh, dai, almeno c'è meno gente. Eh sì, è bello anche d'inverno l'Elba. Sì, ma sicuramente, poi gli inverni non sono più così rigidi come una volta adesso fa, ci si può venire tranquillamente, assolutamente sì. Ascolta, io ti ho chiesto una ricetta di cucina, ce ne dai due, perché una ce l'hai anche descritta. Però, ehm, questo che invece ci suggerisci oggi per i nostri spettatori, io l'ho letto, eh, ho preparato anche una slide, eh, è un bel, è un bel piatto, però vorrei che me lo spiegassi proprio bene bene. Io adesso metterò anche la ricetta e metterò anche un attimo prima la fotografia. Allora, ehm, questo, adesso lo faccio vedere a tutti quanti, è la ricetta che tu ci vai a suggerire, ok? Ok, un attimo che poi facciamo, eccolo qui, eccolo qua. Allora, io mi voglio togliere, ecco perché sto perdendo tempo, mi voglio togliere un attimino se riesco, ok, un attimo, allora, vediamo se riesco, no, non mi vuole far togliere, vabbè, non fa niente. Comunque, questa è la ricetta che abbiamo detto, ok? Sì, sono i timbali e i tagliolini alla Granseola, comunemente chiamata Margherita. La Granseola, per chi non la conosce, che cosa? La Granseola è come un granchio, un granchione grosso, qui all'Elba la chiamano Margherita, ed è uno dei piatti tipici dell'Isola d'Elba, gli spaghetti alla Margherita, insomma, io l'ho fatto così a timbalino, a tagliolino, ma, e qui sono famosi gli spaghetti alla Margherita. Che poi sarebbe la Granseola. Ah, ho capito, come si fanno questi? Anche questa, allora, si pulisce la Granseola bene, si apre, si prende tutto all'interno, poi si tagliano a pezzi il corpo, il carapace si taglia a pezzi, la parte alta si butta, una volta che è tutta bella pulita, pronta, si fa un soffritto di cipolla, aglio, prezzemolo, peperoncino, olio extravergine, si fa rosolare bene, si mette a soffriggere la Granseola, si lascia un attimino rosolare, poi si bagna con vino bianco e si aggiunge pomodoro. Una volta che si è aggiunto il pomodoro, io, questo è un segreto, lo chiudo, lo tappo col coperchio e lo faccio bollire molto forte, deve proprio bollire forte 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 forte, ogni tanto sto attento, alzo il coperchio e giro, bisogna stare attento perché schizza. Però diciamo che questa forza estrae dal carapace tutto il gusto e la dà al pomodoro. Ho capito. Fai bollire tipo 10 minuti, un quarto d'ora, poi lo spegni. Una volta spento io ci metto una noce di burro, a poco spento, e lo lascio lì. E poi, all'occorrenza, ho solto gli spaghetti, o preparo i timballini, o ci posso fare anche un risotto, un timballo di riso. Ho capito. Buonissimo, insomma. Ho capito, ho capito, ho capito. Quindi, anche questo qui è da provare, perché Granseola, io l'avevo sentito come nome, ma non avevo ben presente qual era l'altro. È un granchione un po' più grosso, lo fa parte sempre dei costaci. E comunque si trova all'intorno... Molto, molto, molto saponino. Il fratelli, insomma, è facile trovarlo. È pieno, sì, sì, in primavera. Questo è proprio il periodo delle margherite, delle Granseole. Ho capito, ho capito, ho capito. Allora, io con questo tipologia di piatti è facile unire un'elba bianco, perché siamo proprio nella zona dell'elba, quindi un'elba doc ci sta sicuramente bene. Anche perché la Granseola ha una buona tendenza dolce e l'elba bianco ha una buona acidità, quindi riusciamo veramente a contrastarlo bene. I profumi di questo piatto sono buoni, ma non particolarmente intensi, quindi un'elba bianco penso che sia la scelta migliore. Altrimenti, sempre per rimanere con un vino di mare, io direi di provare un Enzolia o Ansonica Toscana, che sicuramente è un altro vino che potrebbe trovare un ottimo abbinamento con questo tipologia di piatto gastronomico. Io ti ringrazio per questa ricetta, poi dopo chi la vorrà, me la potrà chiedere perché ho preparato poi dopo una slide con tutte quante le, diciamo sia il procedimento che le quantità degli ingredienti. Ti chiedo un'ultima cosa, un consiglio che vuoi dare ai giovani che vogliono intraprendere la tua stessa professione? Amore, perseveranza e pazienza, perché questo è un lavoro che inizialmente è molto duro e prima di raccogliere i frutti devono passare un po' di anni. Non arriva così velocemente questo lavoro qui, per avere successo devi fare un po' di tirocigno, devi girare, devi lavorare sotto chef, diciamo che non ripaga subito, però una volta che sei arrivato è un lavoro che dà grandissime soddisfazioni, ce ne sono poche che danno tante soddisfazioni così come questo lavoro. Tu lo ami molto? Sì, tantissimo. È la mia vita, ormai non saprei cosa fare. Forse, non lo so, sono proprio nato per fare il cuoco, perché non saprei cosa fare se non facessi il cuoco. Fotografo? Fotografo, sì, ma sono più scasso, le foto sono più scasse. È meglio fare lo chef, è bello questo qui, perché se uno fa questo lavoro, lo fa con passione, come tutti i lavori fatti con passione, sicuramente riescono bene, senza dubbio. Inizialmente è dura, perché gli orari sono pesanti, quando sei giovane, c'hai 16 anni e devi stare 10-12 ore in cucina, non è che sia così facile. E a quell'età ti viene voglia di dire, ma chi me lo fa fare? Vado a lavorare da un'altra parte. Però, se hai la forza di resistere e ti piace questo lavoro, sicuramente hai un futuro davanti molto meglio di tanti altri lavori, insomma, secondo il punto di vista. Certo. Diciamo che i sacrifici però sono molti. I sacrifici sono molti, sì. Le feste te lavori, gli altri stanno festeggiando. L'estate tu ti mani in vacanza e ti stai lavorando. Le vacanze magari te le fai a gennaio, quando tutti sono a lavorare. Certo, certo. Ci sono i pro e i contro, insomma, in tante cose. È abbastanza pesante, sì. È abbastanza pesante. Diciamo che non dobbiamo farci prendere la mano da quello che si vede in televisione. No, assolutamente. Ma poi, ma non fare il Natale. Per me il Natale e la Pasqua non sono feste. Io non le sento neanche perché le ho sempre lavorate e perciò non... Assolutamente, assolutamente sì, sono d'accordo. Io ti ringrazio Claudio. Grazie a te, Ennio, che vi ha invitato. Per questa intervista, grazie per i tuoi consigli, grazie per le tue ricette. Ricordo che chi vorrà la ricetta di questo meraviglioso piatto a base di gran seola, ce la può chiedere e poi, anzi, la posterò poi successivamente direttamente su Facebook e a disposizione di tutti quanti. Do l'appuntamento a tutti per mercoledì e giovedì. Mercoledì l'appuntamento è per degustato per voi. Credo che la degustazione verrà condotta, poi adesso tendo conferma, da Chiara Giorleo. Giovedì intervistiamo Stefano Pieri, lo psicologo della strada, con Così ama definirsi e poi gli chiederemo il perché. Ormai è diventato, non dico un divo della televisione, ma spesso in televisione, il sabato un mattina, in particolare sulla Rai, e si sta occupando di un progetto di avvicinamento, di colloquio, diciamo così, con i giovani per il bere consapevole. Anzi, si è già ben avvicinato e sta portando avanti questo progetto. Chiederemo anche di questo a Stefano Pieri. Grazie a tutti, grazie per i precisi segreti, grazie Claudio Pucci, chef da oggi. Grazie a tutti. Grazie per quello che fate tutti voi. Grazie ancora. Buona sera a tutti. Ciao.